sei di pompieri come corno chissà dove vanno eccoli vengono da noi ci ha chiamato il vicino per un incendio e lei il vicino che vicino il vicino che ha l'incendio già io mo c'avevo un incendio in casa non me ne accorgevo mi scusi questo fumo di chi è del vicino il fumo è il mio correte vivo a fuoco la casa se scassi signorin che devo sfondare la porta ma chi sfonda scusi bisogna salvare gege che è rimasta dentro si ma salviamo anche la porta è aperta ho bruciato l'arrosto mi ha salvato tutte le patate e metti in salvo anche tu perché io mica lo so quello che ti faccio adesso gege per farsi perdonare vi offre un bel caffè viva il caffè è sicuro che è quello buono è il suo è qualità oro la pazza e si il caffè è un piacere se non è buono che piacere è buono buono e lei non beve per me scotta un po brucia chiamiamo i pompieri o è la pazza è più lo mandi giù e più ti tira su